ma il cielo è sempre più blu ma il cielo è sempre più blu amici miei buongiorno buona domenica se piove la coppia del sindaco ieri ci siamo lasciati vi ho raccontato un fatterello per quelli che non mi hanno sentito un messaggio di un signore che voleva sapere dato che telefonava la posta e si attaccava il fax voleva sapere se io potevo andare forse alla posta a staccare il fax oppure ci portava la casa che credo sia anche questo compito del sindaco ma ve lo raccontavo per farci una risata facciamoci una risata anche su un altro fatto non mi ricordo se ve l'ho mai raccontato erano i primi giorni del mio mandato e venne una signora al comune una signora anziana con un fascio di carte che pretendiva che io mi leggessi tutte quelle carte e allora disse signore no dice ma questo è necessario che voi leggere ditemi fatemi il riassunto ebbene mi disse questa brava signora mi disse senti sindaco io abito vicino a una signora che ha la casa a fianco alla mia beh in corrispondenza della mia camera da letto questa signora tiene la lavatrice che quando si funziona la lavatrice a quella tavanna che io dicevo la signora nel pozzo dorma e dice signora e chi è che gli ha fatto gli ha venuto a spostare la lavatrice e vi ho raccontato anche questo perché sì sono ovviamente mia nonna Rosini chiamava scambulette cioè sono racconti leggeri ma sono autentici perché queste cose io non è che me le invento mi succedono realmente li racconto anche per un altro scopo per far capire per esempio come sia difficile che la gente comprenda quali sono i limiti del sindaco non parlo ovviamente della lavatrice quello si capisce benissimo o non parlo di andare a staccare il fax o attaccare il fax all'ufficio postale ma parlo degli interventi sulla città che ovviamente non si possono fare in un amen hanno bisogno di tempo per esempio la mensa ho letto quel solito cialtrone che scrive a proposito della mensa che la gara sarebbe ferma fermo è quell'unico neurone che gira nella tua testa bugiardo doc perché la gara della mensa è vero che è ferma perché si è finita il giorno 7 di giugno la commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente la mensa il servizio ristorazione per le scuole elementari grande scandalo ha vinto l'aladisa ah si sapeva che vinceva l'aladisa allora unico neurone che ti gira nella testa alla gara hanno partecipato due ditte una di potenza e l'aladisa la ditta di potenza è stata dalla commissione ovviamente non è composta da me la commissione è stata esclusa perché non aveva i requisiti per partecipare quindi allora sto scemo scrive che si sapeva che vinceva l'aladisa è l'unica partecipante se vado all'olimpiade non si presenta nessuno lo potete già scrivere ai 100 metri medaglia d'oro franco metto tanti che passo passo 100 metri li so fare arrivo fino alla fine vengo io se c'è un solo partecipante naturalmente è andato tutto secondo le regole vi parlavo del tempo che ci vuole pensate uno fa una gara poi deve fare l'aggiudicazione provvisoria poi deve fare tutta una serie di attività burocratiche che se ne va un'altra settimana 10-15 giorni poi si fa l'aggiudicazione definitiva dalla aggiudicazione definitiva bisogna aspettare 35 giorni stando fermi passati 35 giorni chi ha vinto la gara può fare il contratto e dopo che ha fatto il contratto può iniziare la attività per la quale ha vinto la gara d'accordo questo per dirvi una gara che si è completata almeno per l'aggiudicazione provvisoria il 7 di giugno si protrae per gli adempimenti burocratici andiamo praticamente giusto giusto a cominciare la mensa esattamente come io avevo detto il primo ottobre 2016 infallibilmente anzi se il centro cottura che si trova in via madonna sandissima di ripalta ripeto il centro cottura della ladissa che si è giudicata provvisoriamente la gara per la mensa è allocato e lo andremo a inaugurare noi perché saranno i primi pasti che saranno preparati in quel posto sono destinati alle scuole di Cerignola se l'aggiudicazione provvisoria sarà confermata ebbene lo andremo a inaugurare io spero con qualche giorno di anticipo se l'1 ottobre comincerà la mensa noi cercheremo di essere pronti chiederò ai signori Ladissa di essere pronti una decina di giorni prima perché lo voglio tenere aperto a disposizione dei signori genitori in particolare quelle quattro genitrici strumentalizzate da qualche vile oppositore che non sa manco metterci la faccia coraggiosamente quattro signore strumentalizzate e quell'altro scimunito che venne da Bari Pinuccio che faceva tanto ridere dove cacchio lo trovava questo motivo per ridere possono potranno andare nel nuovo centro di cottura a via Maria Santissima di Ripalta come io dissi in consiglio comunale in faccia a tutti e i fatti mi hanno dato perfettamente ragione mi hanno dato perfettamente ragione ebbene aperto a tutti che li vadano a vedere come è organizzato questo centro di cottura dei pasti che sarà attivo non appena le procedure di gara saranno ultimate nell'aspetto meramente burocratico perché per quanto riguarda la valutazione la valutazione è stata è stata già fatta e voglio aggiungere per tutti quanti voi non c'è nessuna indagine della prefettura non c'è nessuna indagine della procura le indagini stanno solo nella testa bacata di quel cannaiolo di bugiardo doc nient'altro quindi signori la mensa è un altro appuntamento che vinceremo noi dove noi avremo perfettamente ragioni ragioni al 100% così come il palazzo dell'ex tribunale noi abbiamo voluto fare lì il palazzo dei saperi se voi aveste visto chi è venuto l'avrà apprezzato tre giorni quando è stato due settimane fa dove hanno preparato il progetto che si realizzerà in quel palazzo lo hanno visitato in tre giorni 1500 persone bambini accompagnati dai loro genitori ragazzi giovani gente che andava a giocare gente che andava a ballare gente che andava a suonare gente che andava a dipingere gente che andava a prendere il materiale che non si usa più in casa una vecchia poltrona un vecchio arnese utensile di cucina e lo andava a reimpiegare utilizzandolo con un'altra funzione con un altro con un altro scopo adesso grazie all'opera veramente veramente ingommiabile dell'assessore alle politiche giovanili quello diventerà a regime certo ci vuole la preparazione del progetto ci vuole la realizzazione ma la tre giorni di preparazione è stato un grande successo ne avremo un polo culturale un posto che potrà essere frequentato tutto l'anno dai bambini dagli adulti dagli anziani per attività di carattere culturale così cominciamo a costruire il parallelepipedo della cultura che io voglio realizzare abbiamo il teatro mercadante confermeremo ovviamente anche per l'anno prossimo la direzione artistica al maestro Rosario Mastroserio noi quando cerchiamo la gente cerchiamo il meglio non il raccomandato dal partito dal partitucolo noi cerchiamo il meglio confermeremo Rosario Mastroserio allora il parallelepipedo è teatro mercadante primo polo secondo polo palazzo dei saperi all'ex tribunale terzo polo palazzo pasquale fornari palazzo pasquale fornari al piano delle fosse il museo del grano sotto il luogo che era fino adesso chiamato come con un nome da cimitero ex opera ex opera omurt omurt l'opera no no quello si chiama palazzo pasquale fornari dove c'era l'opera pia pasquale fornari ma il palazzo si chiama pasquale fornari abbiamo messo a gara la gestione di palazzo pasquale fornari ha vinto una società che non mi ricordo manco come si chiama ci abbiamo messo il tempo della burocrazia per fare la gara a giudicare provvisoriamente fare in verifica dei documenti a giudicare definitivamente aspettare i 35 giorni sono scaduti mercoledì si fa il contratto fra comune e la società che si è giudicata la gara speriamo che per il primo luglio l'obiettivo che io mi ero posto il palazzo pasquale fornari torna ad essere operativo un posto destinato ai giovani sicuramente i giovani potranno continuare a tenerlo come meta delle loro serate di divagazione di svago certamente ma sarà anche il palazzo l'officina delle arti perché noi vigileremo perché il palazzo abbia un aspetto di ristorazione somministrazione bevande e anche cibo ma anche rispettare la funzione culturale ed è il terzo pilastro di questo parallelepipedo teatro mercadante ex tribunale palazzo pasquale fornari torre alemanna forse non è manco un parallelepipedo perché con i lati diseguali per arrivare fino a torre alemanna torre alemanna aveva morto torre alemanna era lì pronta ma abbandonata è arrivata questa amministrazione il 27 di giugno torre alemanna viene inaugurata inaugurata ufficialmente e per fare in modo che questo evento possa attirare la maggiore attenzione possibile noi abbiamo preso uno qualsiasi professor onorevole Vittorio Sgarbi e lo portiamo a inaugurare torre alemanna a fare una conferenza sul suo ultimo libro che si chiama la bellezza e la costituzione sarà una serata culturale legata anche alla inaugurazione di torre alemanna cercheremo di finire su tutti i giornali di andare su tutte le televisioni e i petti rossi sanarassignè ci andrà il sindaco che ha organizzato questa inaugurazione lo so capedusco però è il sindaco che andrà a inaugurare con Vittorio Sgarbi voi non siete stati capaci in vent'anni non avete fatto niente per questo paese non avete fatto niente vergognatevi voi e coloro che vi hanno messo a quel posto in consiglio comunale perché non avevano il coraggio di presentarsi ai cittadini non è che sono amici dei gioco non avevano il coraggio di presentarsi ai cittadini che li hanno schifati tant'è perché gli hanno fatto perdere le elezioni contro un verso qualunque come può essere franco metto contro un movimento un movimento la gigogna che cos'è sta gigogna le altre liste civiche che cos'è va ma date in dalla faccia vi abbiamo battuto perché a voi il popolo vi ha schifato e ancora di più vi schiferà per questo tipo di opposizione che state facendo un'opposizione inutile un'imposizione distruttiva un'opposizione che consiste nell'anzarsi la mattina e pregare chissà succede una disgrazia succede qualcosa di male a Cerignone possiamo dare la colpa al sindaco e questo per fortuna non succede e invece il sindaco è contento di annunciare queste cose cultura a Cerignone non pensate che sia una cosa da niente ma sindaco il lavoro e il lavoro il lavoro i sindaci che stavano prima quelli petti rossi e quelli petti freddi facevano le promesse ho trovato i bigliettini ve l'ho detto l'altra volta i bigliettini la gente portava il nome perché il sindaco gli trovava il posto vedete nella stanza mia stava un bigliettino niente il sindaco non dà posto il lavoro il sindaco porta a Cerignone i soldi allora se Eurospin costruisce un supermercato a Cerignola via Monte Rosa significa che arriva non so quanto costa costruire un supermercato un milione di euro bene arriva un milione di euro perché i lavori li faranno i cerignolani mica vengono a costruirlo i marziani avremo questi soldi e poi e poi avremo i posti di lavoro perché un supermercato deve avere dei dipendenti vendi dipendenti dove li devono andare a prendere quando il signore Eurospin parla col sindaco di Cerignola per dire abbiamo questo progetto il sindaco di Cerignola non gli chiede le mazzette non gli chiede neanche i posti di lavoro il sindaco di Cerignola gli dice signore Eurospin i lavoratori devono essere tutti di Cerignola mi dovete fare sto piacere io mi metto a disposizione in tutto e per tutto nelle cose legali però voi dovete assumere i Cerignolani e allora arrivano i soldi arrivano i posti di lavoro con i soldi fanno lavorare gli artigiani di Cerignola naturalmente i fornitori saranno fornitori di Cerignola si mette in gammino l'economia e in più in una zona dove stava l'immondizia dove stava la merda è stata completamente ripulita sarà costruito l'Eurospin e tutti intorno ci saranno le strade i parcheggi le panchine la zona verde tutta spese di Eurospin vi pare una cosa buona questo fa il sindaco per farmi lavorare e quando il sindaco fa questo con il signore Eurospin il signore Eurospin è tanto contento che dice sindaco e mi fai fare un altro Eurospin ne corre da mamma vieni portano i soldi porta gli altri posti di lavoro e vieni a fare l'altro Eurospin me lo sto inventando no no la zona dei vigili del fuoco la caserma dei vigili del fuoco la parte posteriore della caserma c'è tutto quel terreno abbandonato lì viene un Eurospin stanno valutando il progetto stanno verificando il progetto appena completate le procedure se tutto sarà regolare avremo l'altro Eurospin questo ve lo voglio dire perché ve lo dovete scrivere nella testa le date con le date col tempo non si scherza non si può bleffare io ero consigliere comunale il 2010 il primo argomento serio che portò Antonio Giannatempo in consiglio comunale furono le F3 le lottizzazioni delle F3 le zone dove si possono fare per esempio i supermercati ne portò quattro di lottizzazioni fatte tutte con gli strapiedi noi facemmo una fortissima opposizione va bene perché erano fatte male ma non mi interessa il merito fatte bene o fatte male sapete quelle lottizzazioni quando erano state presentate all'amministrazione Giannatempo sette anni prima cinque anni prima la più giovane aveva cinque anni di età ci avevano messo cinque anni per portarla all'approvazione apro parentesi nessuna di quelle lottizzazioni ha visto messo un mattone speso una lira e creato un posto di lavoro manca una bene la lottizzazione dove di via monterosa sapete quando ce l'hanno depositata a fronte dei cinque sei sette anni del passato l'hanno depositata il 28 di gennaio del 2016 noi abbiamo completato la procedura non nostra persino quella tecnica di rilascio del permesso di costruire il permesso per costruire è stato rilasciato credo l'otto di giugno credo nel senso che ho il sette ho il nove ho l'otto io mi ricordo l'otto di giugno da febbraio marzo aprile maggio e otto giorni di giugno quattro mesi e sette giorni otto giorni e dieci giorni la lottizzazione F3 uguale a quelle di cui vi ho parlato che hanno aspettato cinque anni noi le abbiamo approvate e fatte partire in quattro mesi ecco perché Cerignola poi diventa appetibile come posto dove investire per portare denaro ve lo ricordate che Cerignola non ha mai avuto una paleolica e beh adesso noi le avremo le paleoliche perché la società che deve realizzare queste paleoliche c'è il permesso da tanti anni aveva bisogno di documenti che doveva preparare l'amministrazione ce le hanno portate il pomeriggio la mattina dopo sono venuto a riprendersi queste documentazioni e quando il funzionario l'impiegato chi era lui mi ha ringraziato ha detto sindaco grazie che ci siamo trovati per caso lui usciva io andavo va bene e dico buongiorno che è venuto a ritirarsi sindaco mi guardavo come se fosse camminavo sul mare non ci credevo però è arrivata la telefonata dall'ufficio viene a ritirare le carte sono già pronte e dico io non è che ho chiesto rapidità sempre nella legalità più perfetta per farti un biacere perché io a te non ti tengo niente da chiedere io voglio che tu vada dai titolari dai proprietari dai tuoi committenti a dire venite a investire a Cerignola perché a Cerignola si può investire c'è un'amministrazione valida capace dinamica ecco perché ogni tanto mi sentono di gridare per il municipio d'accordo a me mi piace pure che mi chiamano il pazzo non è che mi offendo ma io non so pace io voglio che questa macchina amministrativa cammini e lo so che chiedo tanti sacrifici ai dipendenti del comune perché non è colpa loro se invece di essere 300 sono 100 evidente che non è colpa loro evidente che il lavoro va rilento perché avremmo bisogno del triplo degli impieganti dei dirigenti dei funzionari però ogni tanto il sindaco deve luccolare perché perché tutti quanti si ricordino che io non voglio il 100% dell'impegno voglio il 101% e non mi accontento del 50% voglio il 101% per me no per la mia città per i bambini di questa città per la gente che mi ha votato e che non si deve pentire di avermi votato e quindi e quindi qualche volta il sindaco grida pure e non mi vergogno di dirlo e vi avviso lunedì se i fatti non vanno come di chi che è grido lo stesso e poi bavoso.doc scrivesse che io sono pazzo perché mi fa piacere perché se sono pazzo per lui vuol dire che sono buono utile per tutto il resto della popolazione quelli normali ucchio bevolo statevi a buono buona settimana ma il cielo è sempre più blu ma il cielo è sempre più blu